Prima giornata di Maison Loisir, un importante convegno sull'ecosistema urbano che riguarda anche questa città. Certo, innanzitutto ringrazio Maison Loisir sempre per questa collaborazione che ormai da anni facciamo come ordine architetti, che ci permette di organizzare eventi di una certa importanza a noi molto cari. Questo di quest'anno è senz'altro uno dei temi che noi teniamo in maniera particolare, sulla riqualificazione urbana e la rigenerazione urbana. Inserendo il discorso molto importante del verde urbano, nel senso come in effetti il verde urbano sia un importante investimento anche economico per la comunità al fine di garantire un processo di rigenerazione e di attivare quelle sinergie che ci sono tra la popolazione, tra noi professionisti e tra le imprese in grado sostanzialmente di riqualificare intere porzioni di città.